Parlerà su come si perdono soldi. Gesù Cristo, se vendesse bare, non morirebbe più nessuno. A quel figlio di Troia è morto il cervello. Ok, allora gli finisce la pacchia. E gli affari sono affari. Continua a comprare. Metti in minoranza il coglione. Olli, voglio che da ogni buco del suo corpaccio schizzi il sangue.